Venite a visitare il sito cyberumanesimo.it dove c'è una sezione dedicata alla filosofia Alla mia filosofia, dai fatemela tirare un po' da filosofo, mannaggia Il cyberumanesimo non è uno scherzo È un momento in cui dobbiamo dare valore all'uomo Perché è sempre più, come dire, vittima È sempre più sotto la forza, l'influenza dell'intelligenza artificiale, dei robot E lo sarà sempre di più L'uomo deve essere al centro, dobbiamo ricordarcelo Se volete dare un'occhiata alla filosofia trovate tutto su camisani-calzolari.it E se vi va di spendere dei soldi per un libro potete comprare Cyberumanesimo in libreria